Ma ancora lui? Ma perché? Sai che il mio invece... Che strumento era quel? Sì. Questa canzone la conosco io. Eh beh. Eh beh. Sì. Va bene. Sì. È il bassista, è sempre lui. Sì. Questo era difficile questo passaggio eh. Ma ce la deve fare tutta. È bellissima. Sì. Va bene. Andiamo capito. Cos'è? Sì. Per l'acuto. Mi è venuto bene però. È la suoneria, hai cambiato la suoneria. Sì. Pronto Daxi? Sì. Chi è? Trimone 27 in 45 minuti. 45 minuti. Sì. 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 Sì.